Ahem, io ho provato a fare una partita, ma non è andata molto bene, cioè più che altro non è andata E ciao a tutti, grazie e benvenuti in questo nuovo video, oggi siamo su Tiger or Lover Un gioco di quanti conoscono, ma a quanto pare io riesco a fare zero nel test di prova, cioè nella prova della prova Quindi proviamo a rifarlo questa volta giocando in modo serio Atalanta Falcons, che presumo che sia una squadra di football americano con 673.000 visualizzazioni Cioè ricerca su Google, ah sì perché non lo sapesse, bisogna indovinare, ma tanto lo sapete, cosa lo spiego a fare, cioè lo sapete Dall'altra parte Person of Interest, che non so minimamente cosa sia Quindi io metterei un Lover, anche se sicuramente è una serie tv famosissima in America che tutti quanti cercano su internet Odio aver ragione, odio aver ragione Ok, allora, questo ha un milione e due, questo non avrà, cioè non ne conosco nessuno di due Sarà un attore, di là se è una roba, un libro, che non lo so Però Lover, eh beh, c'è un milione e due contro 300, eh Il Bernabeu, no, dai il Bernabeu ne avrà di più Cioè solo quando vuoi cercare di pochino, ne so, i biglietti Ci sarà qualcuno di più, di più, di più, di più, di più Adesso ho visto l'immagine dietro Non mi ero accorto prima del caglio che cadeva Donnie Darko o Mirror's Edge? Penso Mirror's Edge non sia molto cercato, no? Infatti, 90.500, ok Juventus, spero che qualcuno è Miz, che ha 5 milioni Pot Noodle, ma penso che vadano abbastanza questi, tipo fatti con acqua bollente e basta Quindi penso che tante di cerchino Ma perché nessuno mangia se schifezze del cavolo? Ma che... Raga, è più divertente vedere i tipi dietro che si incazzano Piuttosto che vedere il gioco effettivo, è bellissimo Ah, ma forse cambia però ogni volta che sbagli Cioè, in base al punteggio che hai, fa una modicon diversa È fighissima questa Il nostro scopo è 10 Non ci arriverò mai, non ci arriverò Però l'importante è provarci Menni Paquiaio Io, ia, pa, qui, ia, o, pa, qui, ia Menni, Menni, Menni O FedEx No, FedEx non si scrive così, FedEx Penso che... Però questo ha un sacco di cose Cioè, un sacco di cambio Quindi secondo me, tipo, è anche abbastanza importante la FedEx Però... Cioè, Menni, dall'altra parte No, 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 cioè, dimmi che fanno apposta fare queste cose The Temptation, che è un gruppo di 50 anni fa O Real Madrid Eh, 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 ok Quindi questo, a rigor di logica Se questo è 13 milioni Se c'entra del più alto e ben visto per adesso I Poodles avranno meno Eh beh, eh beh Michael Jackson È morto, è vero Però magari circa le canzoni Di, se quindi potrebbe essere Heiter E allora è la madontina se è Heiter Man of Wire Secondo me è di meno di 4 milioni È un pochino di meno, va bene Mark Spencer Boh, secondo me, tipo, sembra uno di quei negozi All'ingrosso di roba che vanno tantissimi in America Quindi penso Heiter Come ragazzi, ma come mi leggo queste situazioni? Siamo fortissimi Eh, John Manson Il test per essere psicopatici? No, secondo me è meno di 5 milioni E infatti 9 mila Vabbè, HTC Vive, ragazzi, ne avrà un bel po' di più Neanche così tante Pensavo molto di più, pensavo Pain Vabbè, eh Eh, io vorrei mettere lower Ma sicuramente sarà Heiter Però io metto lower Perché la gente cerca Penny su internet? Ma perché? Il cavallo che fa così Mi ha vinto quindi Lo siete Stavamo per vincere, no? Che cosa? Che cosa? Ma di poco Però comunque la domanda rimane Perché la gente cerca Penny su internet? Play again Va bene Gran Turin Pari Abbiamo vinto Ok Gesù o La foresta amazzonica La foresta amazzonica? No Non se la caga nessuno la foresta amazzonica Neanche una persona praticamente Boudoir Penso che sia una marca di birra Di non so dove O The Jackasson Non è tipo quella serie Non facciamo presunzioni The Jackasson Ok Di pochissimo Però sì Vabbè Esatto Esatto Di più per forza Marvel Vabbè Questo avrà milioni Tony Hawk Sai che secondo me da un po' di anni Tony Hawk non è così ricercato E infatti 250.000 ricerche Chicago Backwells Secondo me è di più Lo che va tanto in America ragazzi Lo che va veramente tanto E infatti Vabbè Qui c'è Qui a occhio Cioè Esatto Per forza C'è un messaggio sul cellulare Ma non voglio sapere di chi è Questo non so cosa sia Ma penso che sia meno di Katy Perry Ebbè 673.000 Siamo a 7 Come prima Subway No Questo avrà molti di più E infatti 6.120.000 Score 9 WaterAid No di meno Di meno Di meno Di meno 18.100 Score Vi abbiamo vinto Vi abbiamo vinto ragazzi Noi abbiamo vinto A 10 Ci siamo arrivati Autismo Secondo me è di più E infatti 823.000 Va bene Brod Chi è? Di meno Mamma mia Fortissimi 12 Bill Joel E non so che sia Però penso di più Ok Sì 400 Che culo Gli oreo Vabbè Questi sono strafammi Perché c'è più gente che cerca appena su internet Che oreo? È un problema È un grosso problema questo Vai Il record di batteria è 12 Anzi 13 Quindi proviamo Royal Robins Non so Penso sia uno scolatore Ma è di 100 anni fa Quella foto Quindi presumo che sia poca gente Che lo cerca Infatti 18.000 persone Ebbè Sport District Penso di più È poco di 18.000 È la Madonte E' famosino quello Scusa un secondo Post Traumatic Stress Disorder Spesso sia lower Anche perché 6 milioni Sono difficile battere 90.000 Silver Secondo me è di meno Sai Uh pari Che culo Quindi la risposta era comunque giusta La guerra del Vietnam E ormai è passata Ma perché Perché la gente Cerca la guerra del Vietnam Dai ma basta Diana Ross Che non so chi sia Sarà un'attrice Cantante Stilista Donna O tax evasion Penso sia tax evasion Nel senso A quanto pare Non è una tax evasion Thomas Edison O Argentina Vabbè l'argentina ragazzi L'argentina è un milione e due Beh sono di più Wow Aleppo Che sembra una parola tipo Aleppo Tipo una mezza romano Ma a quanto pare Non è romano E non so Minimamente cosa sia Quindi mi metterei Meno ma sarà di più Quanto Scusa un secondo Aleppo È una città araba Ah perché c'è la Ah ok C'è la guerra Vabbè non vale La guerra non vale però così eh Perché c'è un Pinguino di Pitbull Che ha un milione di ricerche O il Delta La Delta è una compagnia aerea Quindi penso avrà più ricerche Di un pinguino E beh Ok Sì Ci siamo Ci siamo Ci siamo Lover Quanto? Un milione e duecento e venti mila? Questo è figo Quindi penso di più Ok ok Sì Infatti ho ragione Usain Bolt dai di più Di più Uguale Uguale ok uguale Hong Kong Vabbè di più dai Hong Kong di più No Leo Tolstoi Contro Sandkitting Penso che sia di più questo Duecentodieci persone Cioè Poverini Andiamo tutti quanti a cercare Sto la voca su internet Perché purtroppo Cioè fa pena Duecentodieci persone Dai E grazie al cavolo Non conosce nessuno Terina No Non c'è paragone Non c'è paragone Dai non c'è paragone Non c'è paragone Auckland Riders Auckland Riders Di più Infatti Infatti di più questo È una tipa Di Meno Ok Va bene Bello comunque il fatto che il tipo dia una facciata in una pozzanghera L'ultima Cerchiamo di farla bene Ok Duck Duck Go Ma no Dicevo ragazzi L'ultima Cerchiamo di farla bene Perché L'ultima è importante Prince contro Stumpre Ma perché Chi le conosce Le stupre Ma per 7 milioni Ma perché metto di più Sono un scemo L'ultima Cerchiamo di farla bene ragazzi Perché è importante far bene L'ultima Kenya Kenya Secondo me ne ha di più Perché non so che gente va in vacanza in Kenya L'ultima Cerchiamo di farla bene Non è possibile Che se voglio però così Non so Non so Sembra una malattia Di più L'ultima Cerchiamo di farla bene Per forza qui E che cavolo Ok Questi di più Sono dei comici abbastanza importanti Basta Questo gioco fa veramente schifo Basta Non le posso più Io ragazzi Vi ringrazio tantissimo Per la visione Non so niente su queste cose Non saprò mai Qual è il più cercato su internet Vi ricordo un like Un commento Se il video vi fosse piaciuto Noi ci vediamo prestissimo Con un nuovo video Ciao E niente Fa veramente schifo Questo gioco Veramente incredibile Noi ci vediamo